non è una mia idea ma ho preso questo titolo da un video che ho trovato su youtube in quanto ho fatto una ricerca appunto architetto su youtube per capire un po che cosa ne uscisse cosa magari appunto la gente vede maggiormente anche proprio in funzione di fare qualche argomento qua anche su questo podcast ed è uscita una ricerca un po inquietante in quanto questo era uno dei tanti titoli per cui si racconta che appunto l'architettura non è più quella di una volta in quanto magari un architetto autonomo riusciva a guadagnare a lavorare bene oltre secondo me un punto di vista soprattutto di considerazione di un laureato in architettura che onestamente oggi non mi sembra più che ci sia e oltre al fatto che ovviamente i numeri degli architetti in italia sono alti e quindi non c'è un lavoro per tutti o comunque insomma si va a periodi migliori o peggiori perché anche secondo me insomma con tutti questi bonus adesso probabilmente non è impossibile trovare lavoro però ovviamente non è uno di quei mestieri di cui appunto si gode di un'alta considerazione di una paga che insomma va a pari passo ecco perché sicuramente il processo per essere architetti con anche una retribuzione importante è lungo molto troppo e anche abbastanza frustrante probabilmente perché sono da cinque anni di università poi sicuramente in uno stage un tirocinio sottopagato per poi avere dei primi impieghi anche in quel caso sottopagati poi la maggioranza degli studi chiedono probabilmente una partita iva e quindi con tutte le conseguenze che porta insomma oggi era un po' una considerazione che avendo fatto questa ricerca vi dico un po' gli altri altri titoli che ho trovato non sto scherzando è uno consecutivo all'altro non ho fatto apposta a fare questa ricerca ecco per esempio c'è 12 lavori alternativi alla professione di architetto ecco abbastanza inquietante che forse non si possa fare l'architetto o magari vediamo la positivamente in questo caso con la laurea in architettura si può fare anche altro continuando un altro titolo fare l'architettura nel 2022 ne vale davvero la pena a un altro fare l'architetto fa schifo l'altro ancora vuoi fare l'architetto facciamo un po' di chiarezza cioè si dà l'idea ma veramente vuoi fare l'architetto e quanto guadagna veramente un architetto questo è anche un altro tema che avevo anche trattato io vediamo proseguiamo ce n'era un altro che ho letto ecco ho pagato un architetto su fever 30 euro per disegnare un progetto bello bellissimo un po' inquietante 30 euro per un progetto ecco non è molto incoraggiante ecco questa ricerca che ho fatto forse non so dovreste provare voi io forse sono suggerimenti che dà a me perché come avevo anche già parlato il lavoro dell'architetto insomma non è dei più incoraggianti nonostante ribadisco l'architettura la storia le curiosità quelle è una passione che rimane infatti sono qui per parlarne però effettivamente il lavoro dell'architetto in italia non è cosa semplice ed era mi piaceva condividere questa curiosità questa esperta piccola esperienza che mi sono imbattuto proprio adesso